Come contrastare la grave emergenza igienico-sanitaria in atto nella città di Brindisi? Il problema non è di facile soluzione, tanto più perché la situazione si è incancrenita con il passare del tempo. Non è un caso, infatti, che la percentuale di raccolta differenziata stia crollando mese dopo mese e il varo del nuovo calendario di conferimento non contribuisce a far migliorare la situazione. Intanto, dai cittadini, è stato giudicato assolutamente inaccettabile il fatto che siano diminuiti i giorni di conferimento delle varie categorie di rifiuto a partire dalla frazione umida. Il tutto diventa ancora più grave se si considera che siamo in piena stagione estiva e quindi il caldo non agevola la permanenza in casa dei rifiuti maleodoranti. A ciò si aggiunge il fatto che proprio il calendario di conferimento non è stato adeguatamente pubblicizzato e quindi la gente è disorientata e spesso c'è chi preferisce abbandonare comunque i rifiuti per strada. Una prassi inaccettabile ma inevitabile che conferisce alle città l'aspetto di un luogo sporco e inospitale. Domani il problema sarà l'attenzione della Commissione Ambiente nella speranza che si presentino all'appuntamento sia il nuovo dirigente del settore ambiente che il direttore dell'esecuzione del contratto. È evidente che in questo modo non si può più andare avanti. Una città ridotta in queste condizioni non può aspirare a risultare attrattiva anche per il turismo e quindi bisogna avvertire la rotta individuando i responsabili dei disservizi e sanzionando la ditta Teorema se risulteranno conclamate le sue inadempienze.